La decisione di trasferire la piccola chirurgia dal Mazzini di Teramo all'ospedale di Giulia 9, dove avrà uno spazio più ampio, ha suscitato diverse ed anche dure polemiche in città, in particolar modo provenienti dalla politica locale. Una scelta detta della ASL provvisoria, presa per decongestionare il lavoro dell'ospedale Mazzini di Teramo e collocare l'attività in spazi più consoni, qualificandola e dare migliori risposte al cittadino. Noi parliamo di piccola chirurgia, che sono microinterventi, un ne, una cist programmabile, non un'urgenza. Il problema nasce che noi questa piccola chirurgia l'avevamo in determinate strutture. I NAS hanno detto che non possono stare lì, di conseguenza bisognava trovare dei locali. Però i locali vanno adeguati a delle normative, c'è la legge 32, dopo arrivano l'ispezione dei NAS, dei vigili del fuoco, di tutti se stanno in regola. Quindi, di conseguenza, noi questi locali li dobbiamo preparare. Quindi, avendo questa problematica di avere la necessità di fare questi interventi e soprattutto di non bloccarli, si era pensato, visto che Giulianova sono locali quasi pronti, di trasferirlo momentaneamente, temporaneamente, come è stato scritto nel verbale fatto dal collegio di elezione, trasferirlo momentaneamente lì, nell'emore che si facesse lavorattere e poi tornano a Teramo. Il problema non c'è, parliamo di Giulianova, 15 km da Teramo, eppure va rispettato anche il peso di Giulianova quando si fa fare qualcos'altro. Quindi non è che stiamo parlando che chiudiamo un reparto, chiudiamo qualcosa, uno spostamento temporaneo di un'attività, dell'emore che si addiviene a sistemare dettivamente i locali di Teramo, che dobbiamo individuare, anche perché ci serve pure un anestesista, quindi bisogna trovare dei locali che siano compatibili con le funzioni anestesiche, ce ne sono pure pochi e di conseguenza si parte. Moxessi si cura per momentaneamente a Giulianova, però viene accolto, viene curato con celerità, professionalità e qualità, penso che deve essere il cittadino più soddisfatto alla fine.